Ok, dato che ci siamo facciamo anche lo spacchettamento del pacco di brochure che mi è arrivato oggi. Oh, mega pacco. Ti fai giù. Ah, buste. Tante buste. Sono volata. Allora, bagno e doccia, erano quelli in offerta a 6,95. Quasi sono tutte le mie clienti e poi ci sono dei regali per me che adesso vi farò vedere. Sono contentissimo, vi ho ricevuto tutti questi regali dall'azienda. Allora, il matitone. Un'assilo waterproof nera, un correttore, mascara, feel stronger, questo è il mio, mi era finito. Una maschera pulificante. Bagnotocci. 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 Poi, queste maschere per capelli della linea. Luminosità per capelli colorati. Ne ho prese due per fare scorta perché erano fine serie che sono della versione vecchia della linea per capelli colorati. Poi, poi, andiamo ai bagnotocci. Poi, andiamo ai bagnotocci. L'arfinete il bagnotocci, questo è stato. Passiamo un altro correttore. Andiamo ai regali. Regali tutti i regali che mi ha regalato l'azienda per il mio lavoro. Pennello. Tinta labbra. Rossetto. Nr. 118. 150 matte. Pennello per lo... Sunni-Keyes. Pennello labbra retraibile. Cera bronzante. Terra. No, questa non è la terra. La cipria. Quella compatta. Un'altra cipria compatta. Un'altra cipria compatta. Una cipria. Correttore, correttore. Correttore, correttore. Rossetto. Numero 02. Ombretto. Questo, un blush. Correttore camuflaggio verde. Blush. Blush. Tutti questi. Più. Ci ho dimenticato. Più questi. Che ho già utilizzato per il trucco. Cioè, tantissimi regali per me oggi. Prima tantissimo. Anche questo rossetto che è quello che indosso ora. Numero 101, Gpract Chris. Li rossetto. Pグ Mo. Grazie a tutti.